Folie Scritto da Roberto Calasso fa parte di un'opera in più volumi Cominciata nel 1983 con La rovina di Cascia Un viaggio attraverso un'epoca nel quale l'autore diviene guida All'interno di un percorso lastricato di immagini e storie Baudelaire non era solo un poeta Era un grande prosatore e in particolare critico d'arte Se così lo si vuole chiamare E comunque l'immagine in sé come fatto metafisico era per lui essenziale Perciò è venuto naturale che il libro apparisse nella sua edizione Prima con immagini intercalate E poi espandendosi in questa edizione Che sono ben felice che Monte dei Paschi mi abbia dato l'occasione di fare Una narrazione che evoca luoghi, terreni e non Un viaggio intrapreso dalla banca già due anni fa Scelta che segue un legame, un filo Che avevamo iniziato due anni fa con le nozze di Cadme Harmonia Sempre di Roberto Calasso Riproponendo un libro edito, in quel caso da molto tempo Con una veste iconografica totalmente nuova E secondo me di grande qualità Alcivera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti